Non ancora ha notificato lo sgombero forzato alle 29 famiglie delle palazzine Ater di Collatterrato a Teramo, ma l'ordinanza c'è ed è alquanto sorprendente. Gli stabili infatti sono stati ritenuti agibili, ottenendo la classificazione di agibilità B con provvedimenti di riparazione su tramezzi e tamponature. Perché dunque l'ordine di sgomberare con la forza 365 persone, tra le quali invalidi, anziani e disagiati per lavori che non necessitano obbligatoriamente l'abbandono delle abitazioni? È arrivata l'ordinanza di sgombero? Sì, l'ho andato a prendere direttamente io personalmente. Perché a voi direttamente non vi è arrivata ancora? No, lì agli altri non è arrivato niente. Io ho anticipato per vedere la situazione che diceva anche l'ordinanza. E c'è una sorpresa, cioè le vostre case non sono inagibili, sono agibili B. Ma allora perché dovete uscire? Non lo so, sinceramente non lo so. Ha chiesto qualcosa in comune? No, io direttamente non ho chiesto niente. All'Ater? All'Ater sì, però l'Ater ha detto che dipende tutto dal sindaco e dall'assessore. Voi cosa pensate di fare? Ma noi ne siamo 27 famiglie e dobbiamo riunirci e vedere che cosa vogliamo fare. Gli inquilini sono sotto shock. Alcuni di loro non hanno la minima intenzione di andare via, altri sono spaventati dall'intervento della polizia, ma tutti stanno valutando il ricorso al prefetto. Alcuni di voi non vogliono andare via? No, assolutamente no. Nessuno vuole andare via, sinceramente. Però se l'ordinanza è questa non è che ci possiamo mettere contro la legge. Avete chiesto un incontro con il sindaco, per esempio? Ma io direttamente no. Come caposcala potremmo anche chiederlo, però non so fino a che punto. Il vostro amministratore di condominio cosa sa di questa situazione? Ma niente, io adesso riesco da loro, ho detto che non so niente, cioè l'Ater non gli ha comunicato niente.